Ben ritrovati su MyPersonalTrenerTV. Nell'ultimo video abbiamo iniziato a conoscere la cistite concentrandoci sulla forma più comune, che è quella di natura infettiva. Abbiamo inoltre accennato al fatto che la cistite può essere favorita da diversi fattori scatenanti e che non sempre si riesce ad identificare una causa precisa. La cistite interstitiale, chiamata anche sindrome della vescica dolorosa, è proprio uno dei tipici casi in cui l'origine della cistite è incerta. Vediamo insieme in che cosa consiste. La cistite interstitiale rappresenta una tra le patologie più complesse in ambito urologico. Stiamo parlando di una malattia infiammatoria cronica della vescica che può essere estremamente debilitante. La cistite interstitiale infatti provoca numerosi problemi che vanno dal bisogno quasi costante di urinare al dolore associato ad ogni minzione. Tutto questo in assenza di infezione o di altre patologie vescicali dimostrabili. Come anticipato, quindi, la causa alla base di questa infiammazione della vescica è al momento sconosciuta, anche se sono state proposte origini infettive, ormonali, vascolari, neurologiche o secondarie ad una patologia immunitaria. Oltre ai disordini autoimmuni e alle infezioni recidivanti del tratto urinario tra i possibili fattori causali della cistite interstitiale sono state ipotizzate anche malattie sessualmente trasmesse, allergie a trattamenti farmacologici e traumi anche chirurgici nella zona pelvica. Spesso le cause sono molteplici ed è per questo che la cistite interstitiale è considerata una patologia multifattoriale. La cistite interstitiale può colpire persone di qualsiasi età o sesso, tuttavia si manifesta con maggior frequenza nelle donne di età compresa tra i 20 e i 50 anni. Oltre alle difficoltà nell'individuare una precisa causa scatenante, la cistite interstitiale è un disturbo, ancora oggi, difficile da diagnosticare. Talvolta, infatti, la vescica sembra assolutamente normale, sebbene il paziente lamenti disagio e forti dolori. A tutto ciò si aggiunge il fatto che la cistite interstitiale è una patologia difficile da curare. L'unica buona notizia è che fortunatamente la sua comparsa è piuttosto rara. La cistite interstitiale si presenta con gli stessi sintomi della classica cistite infettiva, quindi con bruciore e dolore durante l'emissione dell'urina, accompagnata da dolori pelvici e riempimento della vescica è stimolo impellente e frequente ad urinare. Tuttavia, non ci sono segni di infezione urinaria, le analisi microbiologiche risultano negative e l'assunzione di antibiotici non comporta alcun miglioramento. Tornando alla sintomatologia, nelle donne il disturbo è spesso associato a dolori vaginali, tali da provocare un'impossibilità ad avere rapporti sessuali. Gli uomini affetti da cistite interstitiale, invece, possono soffrire anche di dolore ai testicoli e allo scroto e al perineo, oltre ad avere eiaculazioni dolorose. La cistite interstitiale è anche caratterizzata da alterazioni della parete vescicale, che sono rilevabili con la cistoscopia e con gli approfondimenti istologici, di cui parleremo più avanti nel video. Oltre ai sintomi già elencati, alcuni pazienti riferiscono anche di avere dolori muscolari e articolari, emicragne, varie forme di allergia e problemi gastrointestinali. Scendendo più nei dettagli, sembra che anche la cistite interstitiale sia associata, in modo ancora non ben compreso, ad alcune condizioni croniche, come la fibriomalgia, la sindrome dell'intestino irritabile ed altre sindrome dolorose. Molti pazienti affetti da cistite interstitiale presentano però solamente sintomi a livello della vescica, occasionali o costanti. Per la maggior parte delle persone affette da cistite interstitiale non è affatto semplice arrivare alla diagnosi del disturbo. Potremmo dire che questa si basa fondamentalmente sull'esclusione di altre malattie e condizioni che presentano sintomi simili. La diagnosi deve perciò escludere la cistite batterica, tumore alla vescica, disturbi renali o anche la tubercolosi urinaria, infezioni vaginali e malattie a trasmissione sessuale, o ancora endometriosi, cancro della cervice, dell'utero o dell'ovaio, prostatite, tumori alla prostata e disturbi neurologici. Per giungere ad una diagnosi certa di cistite interstitiale, l'urologo deve ricorrere a test diagnostici accurati, tra cui l'urinocoltura e la cistoscopia. Quest'ultimo è un esame endoscopico della vescica che si esegue in anestesia generale o locale, allo scopo di valutare lo stato dell'organo. Abbiamo già visto che l'urinocoltura è invece necessaria per la ricerca di batteri nell'urina. Partendo infatti dalla considerazione che la comune cistite è spesso causata da un'infezione batterica, il patogeno responsabile si scopre proprio tramite l'urinocoltura. Pertanto, se il paziente presenta sintomi tipici di una cistite ma dall'urinocoltura emergono urine pressoché sterili, probabilmente si tratterà proprio di una cistite interstitiale. Se non è presente un'infezione e non viene rilevata alcuna patologia, il medico può ricorrere ad una cistoscopia con idrodistensione della vescica. In pratica si iniettano nell'organo delle soluzioni saline fisiologiche per permettere una miglior visione della mucosa vescicale. La distensione della vescica durante l'indagine è particolarmente utile perché consente di evidenziare un quadro caratteristico. All'ispezione endoscopica è infatti evidente l'irritazione delle mucose vescicali, a livello delle quali possono essere presenti numerose piccole macchie rosso scuro, simile a petecchie talvolta ulcerate. Tali lesioni, chiamate ulcere di Anner, quando presenti sono diagnostiche per la cistite interstitiale. A questo punto, per la conferma definitiva, può rendersi necessaria una biopsia della parete vescicale. In pratica viene prelevato un piccolo campione di tessuto da esaminare successivamente al microscopio. Tale esame, detto istologico, rivela tipicamente un infiltrato infiammatorio tipico della cistite interstitiale con cellule immunitarie e glomerulazioni tessutali, in assenza di infezioni o di altre patologie. A differenza della cistite comune, detta cistite batterica, la cistite interstitiale non risponde alla terapia convenzionale con antibiotici. Occorre inoltre sottolineare che ad oggi non esiste un trattamento specifico e risolutivo per la malattia. Sono comunque disponibili svariate e misure farmacologiche, fisiche o chirurgiche finalizzate a ridurre l'infiammazione e il disagio alla vescica. In ogni caso, i risultati sono molto variabili da paziente a paziente. Le terapie farmacologiche per via orale prevedono la prescrizione di antidolorifici, antinfiammatori e antidepressivi triciclici, quali l'amitriptilina. Altri farmaci per via orale previsti per il trattamento della cistite interstitiale sono il petonsang, polifosfato sodico e alcuni anti-istaminici come la cimetidina. Un altro approccio terapeutico consiste nell'installare direttamente in vescica farmaci con capacità riparative nei confronti della mucosa vescicale, quali dimetilsulfossido e leparina. Altri interventi terapeutici sono rappresentati dall'installazione vescicale di acido ialuronico, dall'iniezione della tossina botulinica, dalla neurostimolazione elettrica transcutanea, detta anche TENS, ecc. La chirurgia infine può essere presa in considerazione in casi estremi che non rispondono ai trattamenti tradizionali. In definitiva il trattamento della cistite interstitiale è di competenza altamente specialistica. La scelta tra le varie modalità di trattamento va quindi effettuata in base al singolo caso, spesso combinando diversi interventi. Per quanto riguarda le misure comportamentali, anche l'alimentazione può aggravare il problema della cistite interstitiale. I cibi molto piccanti o irritanti come le spezie, gli agrumi, il pomodoro, il cioccolato, gli insaccati, le bevande alcoliche e il caffè possono infatti rendere più serio il disturbo esistente. È quindi importante alimentarsi in modo sano, cercando di ridurre o eliminare gli alimenti che possono causare irritazione e infiammazione della vescica. Infine particolare attenzione viene riservata alla correzione di eventuali anomalie posturali e l'adozione di uno stile di vita sano con ottimale gestione degli stress quotidiani ed attività fisica regolare. Con questo concluso mi auguro che il video sia stato interessante e di facile comprensione e di avervi presto ancora qui su My Personal Trainer TV.